Il Presidente del Guatemala, Jimmy Morales, annuncia l'espulsione del Paese dell'Avvocato colombiano Ivan Velazquez, incaricato dalla Commissione Internazionale contro l'Impunità, organismo dell'ONU Presidente del Paese, centroamericano del 2007. La scorsa settimana Velazquez, congiuntamente al Pubblico Ministero guatemalteco, aveva richiesto di rivocare l'immunità del Presidente per avviare un'inchiesta su presunti finanziamenti illeciti della campagna elettorale del 2016. Come Presidente della Repubblica, nell'interesse del popolo del Guatemala per il consolidamento dello Stato, del diritto e delle istituzioni, dichiaro il signor Velazquez, persona non grata, non a sueste di incaricato dalla Commissione Internazionale contro l'Impunità in Guatemala, e ordino che lasci immediatamente la Repubblica di Guatemala. Perché la Corte Costituzionale abbia emesso un provvedimento sospensivo nei confronti dell'espulsione di Velazquez, la decisione di Morales ha scatenato un'ondata di proteste. Purtroppo la giustizia è stata cooptata da un sistema politico mafioso che ci sta soffocando, dice un manifestante, e è per questo che diciamo che Ivan Velazquez non se ne andrà, prima se ne deve andare Jimmy Morales che è un corrotto e un ladro. L'intera famiglia Morales nel mirino della giustizia del Guatemala, il 30 di agosto andranno al processo il figlio José Manuel e il fratello Samuel.